Buona vita con la prevenzione si può. E' lo slogan della Tendopoli della Salute in programma per il 21 settembre alla Villa Comunale di Chieti. Una manifestazione che vede mobilitati diversi specialisti in agopuntura, allergologia, cardiologia, chiropratica, dermatologia, diabetologia, dietologia, endocrinologia, ginecologia, naturopatia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria e pneumologia. Un'iniziativa promossa dai club Chivanis Pescara, Chivanis Chieti Pescara d'Annunzio e Chivanis Chieti Pescara insieme ai responsabili del Nucleo Operativo Teate e all'Associazione Cives. Prevenire è meglio che curare il Chivanis di Pescara sotto la presidenza della dottoressa Mariela De Santo ha puntato sulla prevenzione attraverso il progetto salute che ha ottenuto anche il riconoscimento del Ministero e ha visto dallo scorso ottobre diversi specialisti e volti noti dello sport abruzzese mondiale in campo per la prevenzione di diverse patologie sia nelle scuole che nelle fabbriche. E intanto sabato alla Villa Comunale sarà possibile sottoporsi ai controlli gratuitamente dalle ore 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Tra gli specialisti coinvolti Ermano Angelucci, direttore di un'unità operativa complessa medicina interna dell'ospedale Renzetti di Lanciano. Saranno allestite delle tende e delle postazioni dove ci saranno le diverse specialità, dove parteciperanno i migliori specialisti, se mi permettete di dirlo, della zona. Presidente Cellini, quale ruolo avrà CIVES? CIVES, quale organizzazione di volontariato composta da singoli infermieri, ha un ruolo diciamo di supporto fattivo a tutta la manifestazione. Essendo una propria associazione che opera prettamente in protezione civile, ha offerto tutta la propria attrezzatura campale. e poi garantiremo l'assistenza sanitaria qualora ci dovrebbe essere necessità.